Andiamo a rivedere insieme gli highlights di questa gara 1 dalla vista storica e spettacolare di Imola con l'ottimo avvio di Marco Siebert che è partito dalla pole position, Van Uytert partiva in prima fila al suo fianco ma è scattato molto bene Mick Schumacher mentre intanto vediamo alcuni dei contatti che si sono verificati durante questa gara in particolare, questo è il contatto tra Vips e Correa, due compagni di squadra che hanno dato luogo alla prima delle due safety car si procede quindi fino al ripristino della situazione di sicurezza vimpista, questo è il momento più caldo della gara con i tentativi sempre più concreti di Mick Schumacher di andare a prendere la prima posizione a due vittorie al suo attivo fino a questo momento il figlio di Mick Schumacher due ne ha anche Marco Siebert, nuova safety car con l'uscita nuovamente di una vettura che avete visto addirittura viene, si divide in due ma fortunatamente senza problemi per il pilota malvestiti e poi quindi nuovamente safety car si torna alla gara ma per poco perché vedete una nuova uscita questa volta quella del pilota numero 17 Ciantini porta nuovamente all'interruzione, questa volta alla bandiera rossa